Ciao ragazzi, ciao ragazze e benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Allora, oggi vi mostro tutto quello che ho acquistato, sembra una frase che ho detto in qualche video fa, ma è così. In quest'ultimo periodo, per quanto riguarda il make-up, quest'ultime settimane, barra mese, mese e mezzo, ho raccimolato, accumulato un pochino tutti gli acquisti e ora ve li voglio mostrare. Prima di partire nel farvi vedere quello che ho acquistato, mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, avete il piacere ovviamente di farlo, iscrivetevi al canale, attivando anche la campanellina e se vi piace questa tipologia di video, fatemelo capire con un like o con un commentino e nulla, non mi resta che farvi vedere tutto quello che ho acquistato. Allora, partirei subito da Pinalli, sono stata in negozio, questo proprio un po' di settimane fa, principalmente quando appunto era uscita la nuova collezione dei rossetti, la nuova linea dei rossetti di Mulac Cosmetics. Io Pinalli ce l'ho in un centro commerciale qui vicino casa e quindi ne ho approfittato. Non vi mostro campioncini, eccetera, perché mi hanno dato veramente tanti campioncini tra profumi, creme, cremine, sia qui che in altre profumerie, non ve le mostro per non perdere tempo, ma vi mostro quello che ho acquistato su, appunto, da Pinalli. Ho preso due rossetti nuovi di Mulac, i Cream Lust, sono dei rossetti, ovviamente come dice anche la parola cremosi. E vabbè, il pack, ragazzi, il pack secondario qua esterno è bellissimo, in questo blu elettrico, ci vedo anche una punta di viola all'interno, sono bellissimi. E io ho preso due, ovviamente, rossetti 01 e 03. Allora, lo 01 è 365. Sono curiosa di provare questa formula, perché i rossetti di Mulac, quelli che sono nella gamma permanente, sono belli, diciamo, secchini, cioè sono belli duretti come rossetti, infatti li devo utilizzare con un balsamo labbra, perché sennò mi segnano tutte le pellicine, comunque tutte le labbra mi segnano in pratica. E quindi queste sicuramente non lo andranno a fare, perché l'ho già vista e l'ho già sbocciata sulla mia mano e sono molto cremosi. Questo è il pack primario, quindi lo stesso colore della scatolina esterna, con il logo tutto qui intorno, con la scritta Mulac. E questo, come vi dicevo, è il numero 01, il pack è calamitato, bellissimo, e la parte qui è in questo blu barra viola, specchiato, stupendo. Questo è il rossettino, aiuto, mi stava cadendo l'altro rossetto, già mai, e vi faccio lo swatch, eccolo qua. Questo è un nude marroncino, questo è lo 01, bellissimo, la stesura, si sente che sono cremosi, hanno un finish, un pochino lucidino, ecco, classico da rossetti cremosi. Non so se si fissano abbastanza sulle labbra, non l'ho ancora provati sulle labbra, quindi appunto non voglio dirvi nulla, ecco, perché non li ho ancora provati. E l'altro invece che vi mostro, come vi dicevo, è lo 03 Aesthetic, che questo anche mi ha colpito, infatti tra i due non sapevo quale scegliere, e li ho presi ovviamente tutti e due. Questo è lo stick dell'altro, e questo invece vira più al malva. Si può notare benissimo, questo ha più una punta di malva all'interno, e questo invece è più marroncino. Sono due colori spettacolari che io so che andrò a utilizzare tantissimo, sono bellissimi, bellissimi, non vedo l'ora di vedere appunto come si comportano sulle labbra. Poi andiamo avanti. Allora, ho fatto un ordinino sul sito di Clio Makeup, perché c'era un codice sconto che ti dava la possibilità di azzerare le spese di spedizione, visto che volevo prendere un prodottino solo, ne ho approfittato. Allora, come al solito mi hanno dato in omaggio l'igienizzante Wash Manine, e io ho preso un blush, un Cutie Love, bellissimo, questo è il mio primo blush di Clio. Pian piano sto cercando di prendere un pezzo per ogni tipologia, diciamo, di prodotto della linea appunto di Clio Makeup. Ho già degli ombretti cremosi, un Creamy Love, un Coco Love, un Liquid Love, e adesso ho voluto prendere un blush. E questo che ho preso io è Sand Rose, pack comunque spaziale bellissimo, questo è il pack primario con disegnato questo cuoricino, troppo cute. E all'interno abbiamo anche uno specchiettino molto utile, e questa è la cialda con disegnato un cuore e la scritta Clio Makeup. È un blush bello, sembrerebbe bello scuro, ma invece è bello portabile, cioè guardate, poi comunque hanno una polvere molto fine e cioè si sfumano divinamente, molto bello. Adesso magari ve lo calco un po' per farvelo vedere, però è spettacolare, bellissimo. Non sapevo sinceramente quale prendere di blush, sono andata su questo perché mi aveva colpito particolarmente. E quindi niente, mi sto pulendo le mani, scusatemi. Nel frattempo così andiamo avanti e vi mostro quello che ho preso invece da Kikom. Ho fatto un ordinino online perché anche lì ho approfittato di una promozione che se mettevi nel carrello un prodotto skincare che ti dava l'elenco Kiko. Non mi ricordo se adesso avevi il 20% o il 10% su tutto il carrello, sinceramente perdonatemi, non mi ricordo. E quindi ne ho approfittato perché avevo in mente già di acquistare due prodottini. Allora, il prodottino skincare diciamo che ho messo nel carrello per poi avere questa, usufruire di questa promozione, è un lip scrub delicato. Questo è il pack esterno, è proprio carino, bellissimo. La scatoletta è molto carina. E questo è il pack in rosa chiaro chiaro, molto carino. E il bullet anche qui è tutto rosato. Io l'ho già provato una volta appena arrivato perché ero curiosissima e devo dire che sì, effettivamente è un lip scrub bello delicatissimo, molto delicato. Io ne ho due di lip scrub, uno ancora chiuso, l'altro invece è di Mulac che ho nel pottino. Diciamo che mi torna scomodissimo utilizzarlo perché devo utilizzare le dita, l'unghia in pratica. Ed è più scrabbante ovviamente di questo, però ho voluto prendere questo perché appunto in stick. Volevo proprio un lip scrub in stick che è molto più pratico, quindi da utilizzare proprio prima di andare a mettere i rossetti. Quindi sicuramente questo lo terrò qui sulla mia postazione makeup da utilizzare proprio quando prima di mettere per esempio un rossetto liquido che quelli mi vanno a segnare particolarmente le labbra, le pelliccine, me le seccano tantissimo. E niente, quindi invece quello di Mulac lo tengo in bagno e magari ogni tanto lo vado a fare anche prima di andare a letto. Quindi niente, lo proverò poi più tempo, poi vi farò sapere qualcosina. Non mi fa impazzire molto il sapore di questo, mentre quello di Mulac è spettacolare, il sapore è proprio zuccheroso, ti vien voglia proprio di mangiarlo. E ho fatto l'ordine da Kiko perché appunto mi sono fissata di provare a fare il contouring o comunque il bronzing in crema. Quindi ho voluto prendere dei prodotti da provare per la prima volta economici perché io volevo andare su nude sticks che si trova appunto su sephora però hanno un certo costo e visto che non ho mai provato a fare il contouring barra bronzing in crema, volevo provare appunto con qualcosa di più economico. Poi se nel caso sono in grado di farlo, mi piace farlo, allora magari posso poi andare anche a investire qualcosina in più anche su questi prodottini. Come primo prodotto ho preso quindi il Creamy Stick Contour, sono della linea permanente di Kiko. Questo in particolare è il 200 Sculpting Touch. Il pack molto semplice, carino, anche elegante devo dire, nero, lucido. E questo è lo stick. Ce n'è dentro parecchio e adesso non lo tiro fuori comunque tutto. Questo è lo stick sul sito, comunque credo che in gamma appunto, ce ne siano soltanto due. Questo è il 200 ed era quello un po' più chiaro e adesso vi mostro anche lo swatch perché è quello anche più caldo. Ecco qua. L'altro invece da come ho letto le recensioni è un pochino più freddo, ma avendoli preso sul sito avevo paura che l'altro colore fosse troppo scuro per me. Quindi sicuramente lo andrò a utilizzare per andare a scaldare l'incarnato, anche perché tanto io non voglio andare a fare quei contour netti perché io già ho un viso magro abbastanza allungato, quindi semmai voglio giusto dare un po' di ombre, ecco così, ma non voglio fare scolpire fin troppo ecco il mio viso. Quindi sicuramente, ovviamente, questo lo vado a utilizzare per dare un po' di colorito, scaldare l'incarnato e voglio vedere soprattutto come è la sfumabilità di questi prodotti. Poi farò magari un giretto, appena si potrà da Kiko, andrò a vedere dal vivo l'altra colorazione per vedere se effettivamente è più fredda, sicuramente sarà più fredda di questa, ma se non è troppo scura e magari nel caso opto anche per acquistare l'altra colorazione. Però devo dire che a me come colore piace perché comunque a me piace tanto il bronzing più che il contouring, quindi sicuramente questo lo vado a utilizzare molto facilmente e credo che si sfumino anche da dio perché io in un nanosecondo ora l'ho sfumato. Top, bello! Sì, devo dire che come sfumabilità così a primo archito mi piace. Poi già che c'ero appunto ho preso un altro prodottino in crema perché sono fissato ultimamente anche con i blush in crema, però il blush che volevo prendere in questa linea era terminato, quindi non l'ho preso per ora, ma ho preso un radiant touch creamy stick highlighter, quindi un illuminante in stick. Questo qui è il numero 100, stesso pack dell'altro, questo è lo stick. Molto bello! Questo ho letto delle recensioni molto belle sul sito, ne parlavano tutti divinamente, molto bene, dicevano che era un... guardate che bello luminoso che è, che si riusciva a, come si dice, a sfumare benissimo, si sfumano benissimo da quella luminosità molto naturale al viso e non dovrebbe, da come ho letto, enfatizzare troppo la grana della pelle. Comunque devo dire che al tatto sono molto setosi, veramente molto setosi e anche questo si è sfumato molto bello, è fantastico questo. C'erano se non sbaglio in tutto tre colorazioni, questa è la numero 100 ed è quella che ho visto che è stata acquistata di più di tutte perché tutte le recensioni che ho letto sul sito parlavano di questo numero 100, quindi molto bello! Devo dire che è molto bello anche questo, non vedo l'ora di provarli, chissà cosa farò fuori. Poi, ultimo prodottino che ho preso da Kiko ed è un prodotto che utilizzavo tantissimi anni fa, quindi avevo voglia di riprovarlo, è una matita per le sopracciglia, un eyebrow sculpt automatic pencil. Questa che ho preso io è nella colorazione 5, questa è la matita, da questo lato abbiamo il pettinino e di qua abbiamo la punta che è fatta, vediamo se riesco a farvela vedere, triangolare, comunque non sono quelle con le punte e le micromine, ecco perché io quelle non le utilizzo, mi durerebbero pochissimo visto che io comunque le ridisegno e le riempio molto, quindi non sono prodotti che mi interessano quelli. E questo è il colore della matita, se non sbaglio quella successiva poi era troppo scura, quindi credo indicata per le nere, quindi ho preso questa qua, che adesso non ricordo come si chiami, sul sito, comunque la 05, giù nell'infobox vi vado a mettere tutti i link dei prodotti che vi sto facendo vedere in questo video, così se siete interessate poi cliccate sul link e vi porta direttamente al prodotto, come faccio appunto sempre. E quindi vi faccio vedere quello che invece ho preso velocemente da OBS, ho fatto un giorno un giretto e sullo stand di Essence ho preso la cipria, questa qui bianca traslucita della linea All About Matte ed è appunto la classica cipria qua di Essence bianca, a me fanno sempre comodo queste cipre, io le mangio le cipre, non posso stare senza cipria, quindi già che ero lì e se non sbaglio l'avevo vista anche, non so se era scontata, comunque era anche l'ultimo pezzo quindi ne ho approfittato. E poi invece sullo stand di Revolution ho preso un concealer, questo qui si chiama Conceal e Define, questo qui, non le ho mai provati questi correttori di Revolution, ero curiosissima. Questo è il C01, molto chiaro ma l'ho preso appositamente chiaro, è abbastanza cremoso a vederlo così e questa è la colorazione, quindi non ne ho sentito parlare male di questi correttori, sono curiosa di provarli, di vedere la coprenza com'è e soprattutto se vanno a finire nelle pieghette, se sono troppo cremosi, quindi nulla. Proveremo comunque un bel po' di queste cose insieme perché comunque mi piace fare il video del periodo e poi andarli a provare in un video appunto successivamente. Poi cappatina fatta da acqua e sapone e lì ho preso, perché l'ho visto scontato, il fondotinta questo qui della L'Oreal L'Infallible 24 ore Fresh Wear, questo. Ho voluto prendere quello liquido perché sono sicura di utilizzarlo mentre quello in polvere non mi non mi convinceva assolutamente, avendo visto anche dei video qui su YouTube, quindi sinceramente ho voluto optare per quello liquido e quello che ho preso io è il 110 Vanille Rose, Rose Vanilla, vabbè comunque quello. L'altro, la colorazione prima di questa mi sembrava fin troppo chiara, avevo paura che mi sbiancasse troppo, non ho fatto swatch né niente, quindi sono andata un po' così sia a caso in pratica. Quindi speriamo vada bene, anche questo lo proveremo. E poi, sempre della L'Oreal, perché era anche questo scontato, ho preso l'Infallible More Than Concealer. Questo qui ne ho sentito parlare molto molto bene qui su YouTube da alcune ragazze che seguo, quindi in curiosità l'ho voluto prendere. Qua dice che è un correttore ad alta coprenza per occhiaie o per tutto il viso. Infatti ne ho sentito veramente parlare bene, io in curiosità ovviamente l'ho preso e ho preso una colorazione abbastanza aranciata per andare appunto a smorzare il colorito dell'occhiaia. Eccolo qua, dal vivo è un pochino più scuro di quello che vedete in camera, un po' più aranciato. E quindi vedremo poi come sarà anche questo correttore. Io nel frattempo mi pulisco subito, non evitare di fare danni. Passiamo a Neve Cosmetics. Ho fatto proprio recentemente, un paio di giorni fa, un ordinino, mi è arrivato tutto. Questa è la solita bustina che danno, sono stupende, riutilizzabili, bellissime queste bustine. E vi faccio vedere quello che ho preso. Allora innanzitutto all'interno c'era questo affare qui che si mette sulle maniglie delle porte, soprattutto negli alberghi, c'è scritto non disturbare, mi sto truccando, bellissimo. Poi dietro qua ci sono altre frasi. Comunque molto carina. E poi mi hanno dato anche come omaggino un ombretto che, devo dire, non mi fa impazzire come colore. Fa parte della linea degli arcobaleno. Comunque un omaggio è sempre, sempre gradito. E quindi vabbè, niente, questo è l'omaggino, è un color giallino ed è, si chiama Fly. Devo dire che l'ho provato. Non mi piace molto perché è poco anche scrivente, non scrive molto e una volta che l'ho sfumato sulla mano in pratica è svanito nel nulla, però ovviamente lo andremo a provare sugli occhi. E vi faccio vedere quello che ovviamente ho preso io. Anche qui usufruendo di una promozione perché erano scontate. Ho preso le pastello occhi e se raggiungevi un tot di ordine avevi le spedizioni a un euro, quindi ne ho approfittato e ne ho prese ben quattro. Vi mostro subito quella che mi ha rapito il cuore già guardarla dal sito ed è la M051 Choker. Questa qua, ovviamente su questo tono del viola, questa è matt come matita e questo è il colore. Bellissima! Io non ho assolutamente una matita del genere nella mia makeup collection e questa spaziale. Era veramente una vita che non acquistavo sul sito di neve. Ho già qualche matita labbra e occhi, però credo che nell'arco di questi anni abbiano magari cambiato anche formulazione. Sicuramente il pack è cambiato e quindi ero proprio anche incuriosita e alla fine ho voluto fare quest'ordine. L'altra che ho preso è la M020 Acero. Anche questa bellissima! Questa è più morbida rispetto all'altra, non è matt, è cremosa e come finish è un finish satinato. È molto bello ed è questo. Bellissimo questo colore. L'altra che ho preso invece è la M017 Gioia. Bellissimo anche il nome. Anche questa, se non sbaglio, ha un finish satinato, ma è bella brillante questa matita. Io spero adesso di riuscire a farvela vedere. Bella cremosa anche. Questa qua, questa. Eccola qua, questa qui. Bellissima, bella luminosa. Questa l'ho pensata anche come punto luce, ma dal vivo devo dirvi che si nota molto, molto di più rispetto alla telecamera, quindi anche da utilizzare come base per altri ombretti o semplicemente da sola. È meravigliosa. E l'ultima che ho preso invece è la M059 Amigdala, che è questo marrone cioccolato matt. Però anche questa devo dire che è bella morbida. Tra le quattro, quella un po' più duretta, un po' più secchina, è quella viola. E questo è Amigdala. Un bel marrone cioccolato matt. Molto bella. Devo dire che sono molto belle queste matite. Molto, molto belle. Ho fatto un ordinino veloce veloce, solo di un pezzo da Sephora. E qua ho preso una palette occhi. Ve l'ho già mostrata nel video di tutte le mie palette. Se non l'avete visto ve lo linko qui sopra. Ed è questa, la Lolita Por Vida di Kat Von D, che è di Vegan Beauty. È da tantissimo che volevo questa palette. Bellissimo il pack. Cioè, mi chiamava. Ovviamente questi colori sono i miei. Ma dopo che l'ho vista e rivista in vari video qui su YouTube mi sono decisa ad acquistarla perché è meravigliosa. Ci facevo la corte da una vita e mezza e quindi alla fine ho approfittato anche qui di uno sconto. Quindi l'ho acchiappata al volo. Qua c'è lo specchio che mi piace tantissimo, i decori che ha intorno. E queste sono le colorazioni. Così devo dire che sono anche abbastanza fedeli. È meravigliosa, bellissima. Se amate queste colorazioni, io ve la straconsiglio. L'ho già usata un paio di volte perché la curiosità era tanta, poi ce l'avevo tra le mani. Non potevo non usarla. E ragazze, è bellissima. Queste tre cialde un pochino più grandi hanno una texture diversa dalle altre. sono molto cremosi. Questo qui sono dei brillantini pressati, ecco, di varie colorazioni. Mentre poi questi sono dei metallizzati pazzeschi ma straburrosi del tipo che lasciate il solco col dito. E poi niente, anche tutte le altre colorazioni sono bellissime. Anche qui possiamo spaziare tra rosa, le colorazioni un pochino più calde della terra, bellissima, meravigliosa. Sicuramente andremo a provarla in un video. Ultimo ordinino che ho fatto e vi mostro è su Shein. Anche lì ho preso alcune cose makeup. Vorrei farvi un video in cui andiamo a provare dei prodotti makeup di Shein. Ve l'ho anche chiesto nella community su YouTube appunto e diciamo che ha vinto la maggioranza. Il sì, nel senso che volete un video su SheGlam. E quindi adesso andrò a fare un altro acquistino. Devo ancora acquistare delle cose ovviamente. E poi faremo il video. Quindi non vedo l'ora di provare queste cosine. Nel frattempo cosa ho preso? Allora mi sono preso un altro porta rossetti. Ce ne stanno dentro 12. L'avete già visto appunto nella mia collezione makeup che li ho messi già nei cassettini qui dell'Alex. Ne ho preso un altro perché ne avevo bisogno di un altro porta rossetti. questo costa pochissimo tipo 3 euro ma a volte va anche in sconto a 2,50 euro tipo. Quindi comunque un prezzo basso. E poi ho preso due palette occhi. Vabbè io ho proprio la malattia per le palette occhi. Allora ho preso questa che poi ha anche un prezzo veramente bassissimo perché tipo l'ho pagata se non sbaglio sulle 5 euro. Ed è la Lots to Lava Palette. Questo è il pack secondario molto bello. Questo è il pack primario alla fine in pratica è uguale. All'interno non c'è lo specchio e c'è la pellicola che protegge gli ombretti. E queste sono le cialde. Abbiamo quindi nove cialde tra cui matt degli shimmer. E questo qui è più quasi un top coat. Ve ne swatcho un paio. Questi. Guardate che bella. Non è per nulla male la pimentazione di questi ombretti. Facciamo conto anche che costa 5 euro. E l'ho presa perché sono curiosa. Curiosa di vedere come si comporterà sugli occhi. E l'altra che ho preso. Non ho più spazio qua sopra. È questa qui. La Gleaze Whiz. Questa si chiama. Cioè la Gleaze Whiz è una linea perché se non sbaglio c'è neanche un'altra di questa linea. Gleaze Whiz. E questo si chiama Ecstasy. E ero indecisa. Scusate il rumore. Ero indecisa tra questa e quell'altra che in pratica l'altra è un dupe di Natasha Denona. Ho voluto prendere questa ma perché guardate anche il pack quanto è bello. Tutto glitterato. Fucsia rosa qua. È stupendo il pack. Lascia qualche glitter. E quindi va bene. Ho preso questa ma sicuramente andrò a prendere anche l'altra perché ho visto delle recensioni pazzesche su quella palette. Ne hanno parlato tantissimo. Ne hanno parlato molto bene. Ho visto anche dei make up fantastici quindi proveremo anche quella. All'interno anche qui non c'è lo specchio e c'è questa pellicolina con su scritto i nomi che protegge gli ombretti. E queste sono le cialde. quindi tutte tonalità comunque sul rosa viola. Però abbiamo anche una parte molto calda. Cioè molto bella. Facciamo anche qualche swatch qua. Vediamo. Speriamo che non mi deluda perché non l'ho ancora swatchata. Facciamo questo. Adesso poi io con le unghie faccio veramente fatica, ragazze, a prelevare gli ombretti. Ok, questo viola qui è un pochino sciapino. Ah no, ok. Adesso l'ho ripassato. Sembra dare meglio questo che sarebbe in pratica questo qua in basso. Però questo in mezzo. Non so come farvelo vedere. È molto bello e luminoso dal vivo. Molto bello devo dire. E quindi nulla. Dobbiamo provarli. Dobbiamo provarli sugli occhi. Vedere un po' come sono. Certo non si può pretendere questa mega scrivenza. Questa l'ho pagata sulle 8 euro. 8 euro e 90. Super giù. Io credo ragazzi di avervi fatto vedere tutto. Sì. Vi ho mostrato tutto quello che ho acquistato nell'ultimo periodo. Sto già aspettando altre cosine. Nel frattempo io spero che questo video vi abbia fatto compagnia. Vi sia piaciuto. Che vi siano piaciuti i miei acquisti. Lasciatemi sempre un messaggino che a me fa sempre piacere. Vi mando un grosso bacione. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!